La concessionaria Rossi Mercedes-Benz ha riportato clienti e appassionati in pista dopo il lungo periodo di stop imposto dalla pandemia, grazie all'appuntamento annuale con l'Henge Performance Day. Sul circuito dell'autodromo di Magione, ma anche sulle panoramiche strade intorno al lago Trasimeno, in circa 60 hanno potuto apprezzare le prestazioni delle auto Mercedes-Henge affiancati dagli istruttori dell'Henge Driving Academy Italia. Ritorniamo, seppure in grande sicurezza e con tutte le accortezze che ci vengono richieste, però ritorniamo a degli eventi fisici, quindi cominciamo e ricominciamo a sentire tanti motori scaldarsi insieme, tanti giri di pista, tante prove tecniche, sentiamo di nuovo stridere i freni, sentiamo di nuovo il rombo dei motori, insomma torniamo a quello che è la centralità dell'auto, se vogliamo, che è l'emozionalità. Entusiasmo e adrenalina in pista e su strada, ma in tutta sicurezza durante l'evento. Grazie alla partnership di Rossi Mercedes-Benz con l'Henge Driving Academy Italia, un team di piloti professionisti ha aiutato i partecipanti a scoprire la bellezza della guida di vetture e motori particolari come quelli a Henge. Noi di Henge Driving Academy facciamo fare quattro attività molto diverse tra di loro, che sono un'attività in pista con le vetture più performanti, quindi due GTR, una GTR normale, una GTR Pro e due A45 e poi facciamo un tour su strada intorno all'acqua da Simeno con quasi tutta la gamma MG come motorizzazioni e poi facciamo un tour in off-road con gran parte della gamma SUV e concludiamo con un esercizio di scuola che è un handling course, quindi una sorta di gincana molto veloce fatta nel piazzale con una classe A35. I consigli in un'esperienza così non formativa che non è appunto un corso di guida sono sicuramente quelli di prendere dimestichezza con il tracciato e poi di correggere eventuali errori. Quello che poi cerchiamo di trasmettere è una mini formazione su quello che è il prodotto che stanno provando, perché magari ecco è vero che vanno in pista con una GT però magari non sanno che motore ha, dove è la trazione, quanti cilindri dispone, quindi anche quello è un imprinting che teniamo molto a dare. Il protagonista è il cliente perché grazie a loro noi riusciamo di nuovo ad apprezzare questi prodotti e riusciamo anche a vivere con loro un momento dispensierate, e un momento in cui possiamo di nuovo tornare a divertirci, quindi ricominciamo e ricominciamo con il massimo dell'entusiasmo sempre accanto a tutti i nostri clienti.